Allora buonasera, ben ritrovati tutti. Siamo arrivati alla fase conclusiva del dibattito pubblico del completamento della 675. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, la sede istituzionale che ci hanno ospitato per questo evento conclusivo. E oggi è un momento un po' per fare la sintesi del percorso che abbiamo fatto, dei vari incontri e di quanto è emerso, dei temi che abbiamo trattato e ripercorriamo velocemente da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. Quindi ANAS, in qualità di stazione appaltante, in ragione appunto della complessità dell'intervento e della particolare rilevanza sociale e delle sue rigadute sul territorio, ha avviato il dibattito pubblico secondo norma del secondo stralcio di completamento dell'intervento della 675 nella tratta da Tarquinia a Civitavecchia. E' stato sviluppato quindi sempre dal proponente il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed è stata redatta la relazione di progetto che è stato il documento utile per informare la cittadinanza e i soggetti interessati delle caratteristiche dell'intervento, delle soluzioni progettuali, delle diverse alternative che sono state portate al dibattito e i potenziali impatti sociali, ambientali, economici e nonché i relativi benefici che poi derivano dalla realizzazione e soprattutto dal completamento di questa viabilità per il territorio. Il dibattito pubblico è stato quindi un'occasione importante per il proponente e ai fini proprio dello sviluppo dell'intervento. Non è il primo dibattito che portiamo avanti e riteniamo uno strumento estremamente importante e efficace per presentare, ascoltare e discutere con le istituzioni, con gli enti, i portatori di interesse, le diverse alternative proprio al fine di acquisire delle osservazioni, delle proposte, degli spunti in una fase di avanzamento del progetto che consente ancora di appunto tenerne conto negli sviluppi successivi e nella definizione poi del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il dibattito è stato avviato il primo febbraio del 2024 e si conclude oggi, 8 maggio, con la presentazione della relazione conclusiva che appunto ripercorre la descrizione delle attività che sono state svolte e dei temi che sono emersi, delle posizioni e anche delle proposte che sono stati acquisiti. Successivamente il proponente, nei due mesi che verranno, adotterà il documento conclusivo del dibattito che contiene appunto una valutazione della posizione di ANAS rispetto ai risultati e alle proposte che sono emerse. L'avvio del dibattito pubblico è stato preceduto da una conferenza stampa di presentazione del progetto e appunto del dibattito dei diversi incontri che si è tenuta il 29 gennaio del 2024 presso la sede della Regione Lazio e il termine poi dell'acquisizione delle presentazioni, delle osservazioni che potevano essere presentati era stato fissato il 2 aprile. Nello schema ripercorriamo gli incontri che ci sono stati un avvio con una presentazione dei contenuti della relazione del progetto un incontro di approfondimento e quindi poi di illustrazione e discussione sulle alternative che sono state presentate e un terzo incontro sugli aspetti ambientali, archeologici e storico-paesaggistici che caratterizzano il territorio interessato dall'opera e un quarto incontro con una descrizione dell'opera, del territorio e appunto anche dell'opportunità di come un'opera possa essere anche un'opportunità di valorizzazione dei territori che attraversa e poi ci ritroviamo oggi appunto a tirare le sintesi e le conclusioni del percorso che c'è stato gli incontri hanno avuto una durata tutti quanti di circa due ore sono stati organizzati in modalità mista quindi sia in presenza che da remoto oppure solamente in una modalità da remoto una modalità e un orario scelti proprio per favorire la partecipazione anche per chi appunto lavorava o aveva difficoltà di raggiungere poi eventualmente un incontro in presenza la gestione degli incontri è sempre stata, si è sempre composta di due parti quindi una prima parte illustrativa della tematica e una seconda parte di discussione e anche di spazio per gli interventi del pubblico e per presentare le domande. Durante gli incontri quindi i partecipanti hanno avuto l'opportunità di prendere la parola anche più di una volta, di porre le domande rispetto alle quali poi i relatori hanno fornito riscontro. Tutti gli incontri sono stati registrati e caricati sul sito del dibattito pubblico quindi si possono rivedere e sono accompagnati da un report di sintesi che riporta brevemente appunto i temi trattati, gli interventi e le domande che sono state poste con i relativi riscontri. La partecipazione attiva agli incontri è stato forse ecco il momento principale di confronto però è stato possibile anche acquisire e tenersi sempre informati sulle attività e sulla documentazione che veniva prodotta attraverso l'accesso al sito web dedicato in cui si potevano riperire informazioni di dettaglio sull'incontri, gli elaborati progettuali, le richieste di chiarimento e presentare poi altresì le proposte e le osservazioni. La informazione e la comunicazione del dibattito pubblico è stata organizzata al fine di raggiungere il più possibile il pubblico interessato dall'opera e per questo motivo abbiamo adottato una modalità anche attraverso la stampa quindi la presentazione anche della conferenza stampa era volta proprio ad ampliare la comunicazione dell'avvio del dibattito e delle modalità e questo ci ha consentito di raggiungere un pubblico ampio di interesse anche regionale e sovracomunale che sono interessati dagli effetti della realizzazione dell'opera oltre che da cittadini e istituzioni che vivono in prima persona e gestiscono il territorio. La documentazione è stata pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Tarquigna sull'home page c'era il rimando diretto al sito del dibattito pubblico dove era quindi possibile tenersi informati e acquisire. Sono state poi altresì di volta in volta inviate delle mail dedicate, specifiche ai diversi portatori di interesse per appunto sollecitare la partecipazione a diversi appuntamenti e di tutti gli enti. Questo è un po' il dibattito in numeri quindi abbiamo avuto cinque incontri pubblici qui hanno partecipato 165 portatori di interesse 23 sono le persone intervenute nel corso degli incontri ponendo nel complessivo 31 domandi e contributi che sono poi pervenuti. 16 sono gli interventi tecnici effettuati dal proponente per illustrare le caratteristiche dell'opera abbiamo ricevuto entro il termine del 2 aprile sei contributi, sei osservazioni scritte sull'opera e come appena detto c'è stata una conferenza stampa 1096 utenti unici quindi ogni singola persona diversa che ha visitato il sito del dibattito ha quindi acquisito informazioni, scaricato le pagine 3.713 sono le pagine che sono state scaricate e visitate 1.412 i download della documentazione dal sito rivediamo quindi velocemente le alternative che sono state presentate al dibattito le alternative sono quattro, interessano tre corridoi il corridoio di Tarquigna, del Ranchese e del Mignone abbiamo quindi l'alternativa Viola che ha una lunghezza di circa 10 chilometri e 9 ha due svincoli, un viadotto e due gallerie naturali l'alternativa Magenta con una lunghezza di circa 11 chilometri e 6 con tre svincoli, sei viadotti, cinque gallerie artificiali e una naturale l'alternativa Blu di Cresta con una lunghezza di circa 11 chilometri e 100 il progetto prevede due svincoli, quattro viadotti, sette gallerie artificiali e una galleria naturale e in ultimo l'alternativa Viola Verde con uno sviluppo di quasi 14 chilometri due svincoli, sei viadotti e una galleria artificiale vediamo adesso nel merito di come si è svolto il dibattito e qual è stato l'andamento del dibattito che si è svolto regolarmente consentendo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta di esprimere le proprie posizioni e di partecipare attivamente agli incontri all'avvio del dibattito è stato anche espresso un generale apprezzamento dal territorio e dalle istituzioni per il processo di coinvolgimento che è appunto stato considerato un presupposto essenziale al fine della realizzazione dell'opera a valle di ciò nel corso del dibattito non sono mancate appunto interventi che hanno voluto approfondire e anche manifestare alcune anche diciamo criticità o richieste di approfondimenti su certi aspetti come la scelta delle diverse alternative che sono state presentate, il perché sia stato ripresentato il tracciato verde e anche le modalità di partecipazione al dibattito pubblico e anche di gestione del dibattito stesso ripercorriamo quindi velocemente sulla partecipazione al dibattito pubblico alcuni partecipanti hanno ritenuto che sia stata limitata perché non ci sarebbe stata la necessaria comunicazione e informazione al pubblico nel corso del dibattito ma anche diciamo come ho ricapitolato adesso brevemente gli incontri sono stati pubblicizzati di volta in volta attraverso i canali istituzionali dell'ANAS il sito dedicato e tramite appunto gli inviti specifici a tutti i portatori di interesse e poi anche sempre stata data pubblicità sul sito del comune di Tarquinia e anche sulle modalità di gestione del dibattito e all'inizio si sono rappresentate sono state rappresentate delle difficoltà da alcuni partecipanti per l'accesso alla diretta streaming per la difficoltà di presentare le domande e questi aspetti tecnici sono stati man mano affrontati e anche superati e quindi si è migliorata la partecipazione sotto questo punto di vista inoltre alcuni partecipanti hanno lamentato un po' un tempo limitato per gli interventi del pubblico e la difficoltà di comprendere appieno il materiale tecnico che era stato fornito e anche diciamo sulle modalità di raccolta delle osservazioni nell'ambito del dibattito e rispetto a questo mi preme diciamo evidenziare che durante tutti gli incontri si è dato lo spazio necessario infatti gli incontri sono terminati solamente alla fine di tutti gli interventi che sono stati richiesti dal pubblico indipendentemente dall'orario di sessione quindi è stato lasciato lo spazio necessario per ogni intervento il materiale disponibile è stato pensato appunto per renderlo accessibile ad un pubblico vasto e il proponente viste le osservazioni pervenute ha comunque dato poi la disponibilità a proporre ulteriori elaborati progettuali alle domande pervenute nel corso del dibattito in forma scritta è sempre stato dato riscontro tramite nel termine delle presentazioni e con una modalità di restituzione delle stesse in forma aggregata per temi simili che diciamo ha consentito ai relatori di fornire delle risposte puntuali le stesse poi sono sempre state riportate nel report sintetico che è stato caricato sul sito alla fine di ogni incontro e quindi lì era anche poi possibile ritrovare i vari interventi la scelta delle alternative presentate si è discusso molto un tema che è sempre stato ricorrente è la ripresentazione del tracciato cosiddetto verde secondo alcuni partecipanti infatti il tracciato verde non avrebbe dovuto essere considerato tra le alternative proposte al dibattito perché bocciato da una precedente sentenza del Tar Lazio rispetto a questo è stato evidenziato nell'ambito del dibattito che appunto l'alternativa verde è stata presentata e discussa in quanto il Tar del Lazio non si è espresso sulla fattibilità tecnica del tracciato ma sulle procedure che sono state adottate per la sua autorizzazione pertanto il Tar ha annullato le derivere di approvazione del tracciato verde e indicato quindi il percorso per il riovvio del procedimento autorizzativo a partire appunto dagli atti annullati salvo la riapertura del procedimento di via Vinca con restituzione della commissione tecnica di via VAS l'altra posizione che è emersa nell'ambito del dibattito è che secondo alcuni partecipanti il dibattito era un po' sbilanciato a favore di due alternative ovvero l'alternativa magenta e l'alternativa blu di cresta rispetto a queste due alternative il dibattito ha in realtà interessato in ugual misura tutti e quattro le alternative che sono state presentate sono state illustrate e discusse e dato l'opportunità appunto di parlare di tutte le alternative e in aggiunta a questo era stato poi proposto un approfondimento sui due tracciati nuovi proprio perché nuovi, meno noti e meno conosciuti al territorio che erano appunto il tracciato blu di cresta e il magenta e nell'ambito del dibattito poi sempre fermo restando la disponibilità ha puntato ad approfondire e rispondere ad ogni domanda non solo su questi due tracciati del blu di cresta e del magenta ma su tutti e quattro i tracciati che sono stati presentati veniamo quindi poi ai temi emersi nel corso del dibattito pubblico si è parlato dell'opportunità e delle ragioni dell'opera delle alternative come abbiamo visto del tracciato e quindi di come sono state accolte dal territorio degli aspetti ambientali, archeologici e paesaggistici e infine anche del master plan, delle mitigazioni e delle compensazioni le opportunità e le ragioni dell'opera nel corso del dibattito non sono emerse opposizioni rispetto alla necessità di completare l'opera anzi è stata considerata dai più un'opera essenziale per lo sviluppo del territorio per garantire una maggiore sicurezza stradale e di conseguenza anche una minore incidentalità si sono espressi a favore mostrando un forte sostegno al progetto i rappresentanti degli enti, delle istituzioni e delle categorie economiche si segnala che non sono mancate nel corso del dibattito anche delle voci critiche nei confronti della realizzazione dell'opera soprattutto da parte di coloro che avrebbero ritenuto più sostenibile e meno impattante la semplice messa in sicurezza del tratto della SS1 bis sino all'innesto con la 12 entrando nel merito l'alternativa viola nel corso degli incontri è stata ritenuta da alcuni più in linea con le caratteristiche paesaggistiche del territorio che consentirebbe di rendere l'attuale SS1 bis una strada parco mentre altri partecipanti hanno criticato questo tracciato poiché avrebbe un costo elevato e non sarebbe pertanto sostenibile questo è il dettaglio dell'alternativa magenta nel corso degli incontri molti partecipanti hanno dichiarato di preferire questa alternativa perché rappresenta il miglior rapporto costi-benefici e si inserisce in un corridoio già infrastrutturato consentendo anche al contempo una migliore accessibilità al comune di Tarquinia tramite l'inserimento di un terzo svincolo che è lo svincolo di Monterozi per altri partecipanti invece questa alternativa risulterebbe eccessivamente impattante da un punto di vista paesaggistico e naturalistico rispetto a questa alternativa è pervenuta anche una proposta che succedisce di valutare un'integrazione del tracciato magenta nel tratto iniziale di attraversamento del bosco della Turchina prevedendo un tracciato in galleria analogamente all'alternativa viola anche per non incidere sull'attuale SS1 bis che non verrebbe toccato da alcun intervento di deviazione e diventerebbe pertanto una strada parco declassata ora l'alternativa blu di cresta nel corso del dibattito sono estrate espressi pareri differenti circa il tracciato blu di cresta non ha ricevuto molti interventi specifici da un lato però si è registrato un partecipante ha dichiarato che il tracciato in ragione del lungo tratto in galleria e della presenza di viadotti sarebbe da preferibile perché garantirebbe un limitato consumo di suolo mentre invece altri partecipanti hanno affermato che come per il tracciato verde ANAS non avrebbe proprio dovuto presentare questa alternativa anche in relazione al fatto che il primo stralcio di completamento dell'opera prevede l'attraversamento a nord dell'abitato di Monte Romano e non a sud come invece era inizialmente previsto l'alternativa verde nel corso del dibattito sono emersi diversi pareri critici rispetto a questa alternativa e alla scelta del proponente di ricomprenderlo delle alternative questo l'abbiamo già visto in quanto considerato già scartato perché giudicato ambientalmente non compatibile inoltre è stato specificato che con i suoi circa 14 km di sviluppo quasi interamente fuori terra corrisponde ad una lunghezza superiore al 35% rispetto agli altri tracciati e l'alternativa verde quindi comporterebbe un alto livello di consumo di suolo sul territorio vediamo gli ultimi due aspetti gli aspetti ambientali, archeologici e paesaggistici il master plan, le mitigazioni e le compensazioni per quanto riguarda le analisi svolte da un punto di vista di valorizzazione ambientale storico, archeologico del territorio alcuni partecipanti hanno effettivamente apprezzato e sottolineato l'importanza della tutela di un patrimonio naturale dell'area di un territorio estremamente sensibile l'attenzione dei partecipanti si è concentrata poi in particolar modo su alcuni aspetti ovvero la peculiarità ambientali sancite dalla presenza e dalla tutela dell'area Natura 2000 la necessità di contenere il consumo di suolo la necessità di ricucire il territorio attraversato da molteplici infrastrutture stradali e la presenza, la tutela del falco grillaio e la tutela del complesso delle calcareniti e la presenza di calcare organogeno di origine sedimentaria nel corso del dibattito il proponente ha presentato al pubblico anche una proposta di master plan ovvero uno strumento strategico che è stato elaborato per inserire nuova infrastruttura all'interno del contesto territoriale come elemento di valorizzazione ambientale e paesaggistica dei territori che sono attraversati che sono attraversati dalla nuova opera le discussioni sui contenuti del master plan ha aperto riflessioni anche sul tema delle mitigazioni delle compensazioni nonché delle risorse necessarie alla realizzazione delle azioni previste anche dalla proposta del master plan nel corso quindi del dibattito è emersa l'importanza del dialogo e del confronto con gli attori locali proprio perché le proposte strategiche del master plan si connotano come un'attività aperta a diverse sollecitazioni e da strutturare rispetto poi alle istanze locali e alle disponibilità delle risorse pubbliche e private alcune compensazioni invece potranno essere realizzate nell'ambito dei lavori stessi di realizzazione del secondo lotto chiaramente nel limite delle risorse disponibili mentre per gli altri interventi contenuti nel master plan si dovrà poi definire di concerto con le amministrazioni locali un'ottica di sviluppo territoriale veniamo quindi alle conclusioni le considerazioni conclusive rimandando poi ovviamente per i dettagli sarà caricata la relazione conclusiva sul sito del dibattito e qui diciamo sinteticamente traiamo le conclusioni rispetto a quanto è emerso nell'ambito del dibattito e vi è quindi una diffusa necessità espressa in particolare dagli enti dai rappresentanti delle categorie economiche per il completamento dell'opera è emersa poi una netta contrarietà rispetto all'alternativa verde un interesse solamente parziale verso la faltibilità delle altre due alternative cioè l'alternativa viola e blu di cresta e una preferenza invece per l'alternativa magenta con una proposta di integrazione che abbiamo visto prima vi è poi quindi infine un forte interesse manifestato dal territorio per la tutela e la salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dell'area con l'esortazione per il proponente a presentare la massima attenzione a questi aspetti nell'eventuale successive fasi di progettazione dell'intervento questi sono gli aspetti principali che sono emersi nell'ambito appunto di discussione delle quattro alternative e del dibattito ci sono stati molti interventi che appunto hanno arricchito e contribuito poi ad avere gli elementi che saranno utili al proponente nella stesura poi del progetto di fattibilità tecnico-economica e pertanto io ringrazio tutti i portatori di interesse che hanno partecipato le istituzioni e gli enti territoriali per la partecipazione attiva e i contributi che sono stati depositati e lascio la parola per un breve commento anche al proponente e qui è presente oggi il gruppo dell'intervento l'ingegner Paolo Nardocci dell'ANAS Buonasera a tutti ringrazio l'architetto Vietto per l'esposizione chiara e concisa di tutto il lavoro svolto in questi mesi a questo punto a valle del dibattito pubblico abbiamo sicuramente una visione più chiara di quello che deve essere l'indirizzo della progettazione dell'opera e quindi possiamo procedere diciamo in modo in modo abbastanza deciso verso la progettazione di quella che è l'alternativa magenta inserendo al suo interno tutte quelle che sono le osservazioni e le proposte emerse in questa sede per poi riproporla una volta una volta predisposto il progetto nei tavoli istituzionali per le autorizzazioni necessarie in questo processo evidentemente continuerà da parte dell'ANAS il dialogo con il territorio perché le progettazioni sempre devono essere partecipate partiamo per oggi da un indirizzo che è stato in qualche modo dibattuto è stato spiegato è stato illustrato e alla fine esce da un confronto con tutte le istituzioni e territori interessati e il pubblico questo rafforza la nostra diciamo l'indirizzo della nostra progettazione e l'impostazione che daremo io anche ringrazio tutti quelli che hanno partecipato perché in questi confronti in questi dibattiti oggi si va a concretizzare quella che è la vera partecipazione del territorio nelle opere pubbliche e che tra l'altro rientra anche in quella che è un po' un'economicità degli investimenti che si vanno a fare anche nelle fasi iniziali di progettazione perché si evita di andare a disperdi energie verso soluzioni che poi non sono quelle che diciamo conseguono il miglior rapporto tra costi e benefici perché il consenso del territorio è sicuramente uno degli elementi più importanti ed è dal territorio che ci arrivano tutte le informazioni necessarie per mettere a terra delle opere che siano diciamo ottimali da un punto di vista anche del ritorno agli investimenti pubblici grazie a tutti cedo la parola grazie la parola al commissario Ilaria Coppa buonasera non mi voglio ripetere intanto grazie per aver partecipato anche a questo incontro conclusivo insomma come è emerso il dibattito pubblico che è un istituto recente è stato diciamo uno step importante di nuovo nella come dire concertazione e proseguo dell'attività relativa a quest'opera di cui appunto è l'onore e l'onore di essere commissario è un'opera che è dibattuta da tantissimi anni e quindi il fatto di poter come dire accogliere e mettere a sistema i punti di vista diversi nell'ambito appunto di un istituto che la normativa ci offre è stato molto importante come ci ha detto la responsabile del dibattito sono emerse delle indicazioni importanti forse direi anche chiare circa la A prima di tutto direi fondamentale la volontà da parte di tutti direi i portatori di interesse di andare avanti quindi di concludere quest'opera veramente importante per il territorio e non solo diciamo abbiamo avuto anche il proponente l'ANAS e comunque sia anche per quella che è la mia attività commissariale sono state acquisite delle informazioni importanti che ci auspichiamo ma ne sono ragionevolmente certa avranno ci daranno offriranno la possibilità di proseguire le attività progettuali in maniera più spedita di quanto non sia accaduto negli ultimi anni stiamo portando avanti in parallelo anche appunto con il proponente con l'ANAS e con i colleghi dell'ANAS quindi contemporanea come sapete anche il primo stralcio il primo stralcio è in fase diciamo di verifica di ottemperanza presso il ministero dell'ambiente ma stiamo proseguendo con le attività propedeutiche per la preparazione del cantiere e per avviare quanto prima i lavori quindi io ringrazio di nuovo nuovamente tutti ringrazio su eccellenza il prefetto per averci non solo ospitati ma aver consentito anche di portare avanti un dialogo costruttivo e sereno cosa che francamente anche essa non è scontata e intanto costruttivo e sereno da arrivare a delle conclusioni utili perché talvolta oimè anche questi diciamo confronti aperti possono diciamo non portare necessariamente a degli ecco a degli output così così importanti e definiti quindi grazie e ecco signor prefetto se vuole grazie ancora allora devo dire che sono veramente contento del fatto che oggi ci state dando questa bella notizia ero fiducioso un po' fin dall'inizio soprattutto quando partecipai alla presentazione delle varie proposte che erano state messe sul campo avevo la sensazione che insomma una di quelle potesse effettivamente andare a buon fine così è stato si tratta di un'opera strategica importante per questo territorio ero a Rieti mi occupavo di strade sono a Viterbo mi occupo di strade noi abbiamo semplicemente un compito che è quello di cercare di dare impulso a questi importanti interventi vedo il sindaco di Monte Romano saluto le autorità all'assessore della regione Lazio la cara amica Manuela e tutte le altre le autorità e niente spero che ci sarò ancora quando magari daremo l'annuncio che i lavori iniziano o che addirittura stanno finendo chi sa io ci provo incrocio le dita in bocca al lupo per tutti ingegnere ha fatto un grande lavoro ma tutto il suo staff credo che si sia impegnato fortemente in questa cosa grazie ancora grazie mi unisco anch'io e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per l'ospitalità e prima di lasciarci io se hanno piacere lascerei la parola anche alle istituzioni e alle amministrazioni che sono presenti e Assessore prego grazie con vero piacere che sono qui veramente perché il commissario l'ingegnere Ilaria Coppa è una delle prime persone che ho conosciuto appena sono arrivata in Assessorato e mi ha posto il problema di questa strada e conoscevo insomma io sono Reatina quindi l'Umbro Laziale ce l'abbiamo nel cuore anche noi insieme a voi purtroppo da noi è stata fatta due corsie però vabbè vedremo nel tempo se riusciremo a fare di meglio è un'opera importante la aspettiamo da circa 60 anni mi sembra e sono contenta insomma anche del risultato del dibattito pubblico perché è importante il dibattito pubblico come diceva il responsabile del dibattito l'architetto è questo metodo di condivisione che un po' ci ha insegnato l'Europa la condivisione delle procedure prima di dare avvio ai lavori insomma negli anni sono state spesi tempo risorse energie da parte di tutto per arrivare poi a dei percorsi che si sono dovuti interrompere giustamente sentivo dice qualcuno ha obiettato perché è stata riproposta il tracciato verde che era già stato in un qualche modo insomma bocciato nel corso degli anni perché credo che sia giusto che in un dibattito pubblico tutte le possibili alternative siano prese in considerazione questo è il tema proprio che va sviluppato e adesso mi divertivo a vedere perché insomma questa poi il percorso magenta è uno dei percorsi che avevamo condiviso con il commissario e sono insomma contenta anche che dalla fine del dibattito è uscito fuori insomma la volontà di percorrere questo tracciato e così ero curiosa perché poi i colori hanno un significato e leggevo il colore magenta è un colore che dà energia e contemporaneamente accoglie quindi insomma è una previsione per il futuro importante perché le infrastrutture sono sviluppo del territorio ma è anche un modo per accogliere sui nostri territori che insomma sono stati un po' abbandonati dalle istituzioni purtroppo quindi per per fare in modo insomma che questi territori siano riabitati quindi accogliere nuovi abitanti nuove generazioni che avendo la possibilità di muoversi con più facilità nei nostri territori hanno anche la possibilità di riabitare questi territori e quindi credo che anche la scelta praticamente di questo tracciato anche il colore che emblematicamente era stato scelto come tanti altri colori che potevano essere scelti è simbolo forse di un futuro migliore per tutti speriamo insomma di inaugurare almeno la fine del progetto esecutivo non so se l'inizio dell'opera però del progetto esecutivo ce la metteremo tutti grazie veramente grazie grazie prego il sindaco di Monteromano un saluto e un grazie a tutti grazie a sua eccellenza dell'ospitalità grazie ad ANAS per tutta l'opera che ha svolto complimenti per aver azzeccato l'acromia commissario quindi come ha detto l'assessore Magenta è migliore noi come comune di Monteromano abbiamo in qualche modo avuto da anni collaborazione con ANAS soprattutto per la parte che vede interessata al nostro territorio continueremo a farlo perché continueremo perché dobbiamo ancora iniziare quindi auspico che ci sia l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile perché l'opera ormai è necessaria è importantissima con la speranza come diceva l'assessore che sia anche lo strumento per consentire il ripopolamento dei piccoli comuni affinché comunque con la viabilità importante come questa si possano raggiungere i centri più importanti quali possano essere Viterbo e Civitavecchia questa come ribadisco è una parola importante per noi quella che chiedo commissario lo dico a tutti i presenti è la continuazione della collaborazione con gli enti con i territori perché anche nella come dire durante il lavoro durante la fase dell'opera secondo me determinate cose le dovremmo andare a ricondividere a rivedere non nella progettualità ma forse nella funzionalità qui oggi lo sapete io ho un'idea un pensiero su quello che sarà il discorso dello svincolo e qui su questo tavolo chiedo che comunque quella cosa venga in qualche modo rivisitata e riproposta va bene l'ho detto apertamente perché poi è una cosa che non vorrei che rimanga inascoltata perché secondo me quella è un punto leggermente da andare a rivedere e rivisitare comunque grazie della disponibilità grazie da noi avrete sempre la massima collaborazione buon lavoro e grazie a tutti grazie allora se non ci sono altri interventi io di nuovo ringrazio tutti i partecipanti per allo svolgimento del dibattito grazie a tutti e buonasera grazie 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 grazie